chi segue questa rassegna sa che a me piace andare dentro i giornali magari mostrarvi all'inizio non un titolo di prima pagina ma il titolo di un articolo all'interno dentro questi giornali c'è tantissima tantissima roba tantissime notizie interessanti belle e brutte e quindi abbiamo due proprio uno di un tipo e uno dell'altro siamo a pagina 9 del gazzettino di belluno di oggi che è giovedì 25 gennaio e voi state seguendo la rassegna stampa di radio piave in blu condotta dai giornalisti dell'amico del popolo buongiorno a tutti da luigi guglielmi dunque la notizia brutta è andato in pensione un postino nella zona di seren del grappa e spesso questi postini sono persone di grandissima disponibilità di conoscenza anche del vissuto delle esigenze dei cittadini per cui insomma quando un postino se ne va non è facile che il servizio continui ad essere quello di prima ad avere quei tratti positivi che aveva specialmente se poi magari il postino non viene non viene sostituito no se si cerca di tamponare con altre figure che magari sono meno legate al territorio storico postino in pensione a seren del grappa raccomandate scomparse è il titolo scomparse tra virgolette non è che sia sparite ma le consegne sono in difficoltà da quando quel portalettere non c'è più la distribuzione in paese è andata in tilt i cittadini denunciano da circa un mese arriva in casa solo qualche lettera ma nulla più capite che è un bel disagio rientra nel capitolo infinito delle disfunzioni delle poste nella nostra provincia ieri abbiamo messo sul nostro sito www amico del popolo punto iti la la notizia delle numerosissime fiat panda 4x4 messe a disposizione su dei postini sul nostro territorio voleva essere una notizia positiva che ci è arrivata da poste e che noi vediamo che vi abbiamo dato che abbiamo proposto e se non che cosa è successo che molti dei vostri commenti a volte esagerati sicuramente e molti però hanno messo in luce le carenze del servizio del servizio di consegna della posta non che non è più quella di una volta lo sappiamo che c'è stata ci sono state riduzioni di personale pazzesche perché perché bisogna sempre fare utili tra l'altro poste italiane è un'azienda assolutamente sanissima e quindi è logico è giusto anche ed è in regime quasi di monopolio per cui è giusto è importante anche che se ci sono delle disfunzioni vengano segnalate rimarcate malumore dice l'articolo nel comune di seren del grappa i cittadini del comune feltrino potrò testano da quando è andato in pensione il vecchio postino le lettere non vengono più consegnate a fine anno infatti è andato in pensione lo storico portalettere del comune di seren del grappa dice l'articolo una persona riconosciuta da tutti che ha sempre portato avanti il suo operato nel migliore dei modi pensate che bello se questa persona adesso ci ascolta se questa persona legge l'articolo che soddisfazione nel poter dire guarda mi sono fatto voler bene mi sono fatto stimare la mia assenza si vede e così uno va in pensione insomma lasciando di sé un bel un bel ricordo aveva portato avanti il suo operato nel migliore dei modi nonostante le difficoltà ben note che poste sta attraversando nel reperimento di personale che svolga questa mansione diciamo che ci sono stati tagli feroci nei decenni scorsi poi non è facile ricostruire come si vuole anche un'immagine no dal primo gennaio però il disservizio è stato evidente dice l'articolo come affermano alcuni residenti nel comune infatti le lettere non vengono più consegnate da circa un mese arriva qualche lettera ogni tanto ma nulla più si tratta a volte anche di emissive importanti o attese che non arrivano un disservizio di qualche giorno poteva anche essere sopportato dalla cittadinanza in quanto è comprensibile che chi arriva nuovo possa non conoscere il territorio ma la non consegna la mancata consegna dura ormai da oltre 20 giorni quel che più risulta incomprensibile da parte della popolazione è che la mancata consegna non avviene solo nelle parti più periferiche lontane dal comune ma anche nelle zone del capoluogo o centrali di questo malumore è stato informato il primo cittadino dario scopel che sottolinea che molti cittadini del nostro territorio sono venuti da me dice scopel lamentando che dall'inizio di gennaio si sono riscontrati dei disservizi l'articolo va avanti spiega che è stato interpellato poste che sottolinea che il servizio di recapito a serena è stato garantito dopo il pensionamento del presidente porstino confermiamo che ci sono stati rallentamenti ma dice che adesso la copertura è stata ulteriormente rafforzata così ha risposto poste alla giornalista che ha cercato di approfondire noi terminiamo qui con questo articolo dicendo che noi per primi noi dell'amico del popolo per primi siamo vittime dei disservizi postali di questi anni a cominciare dal problema noto della consegna a giorni alterni della posta che penalizza moltissimi dei nostri abbonati anche perché dell'amico del popolo anche perché se il giornale facciamo conto deve essere consegnato il giovedì e non viene consegnato il venerdì magari quella settimana non c'è consegna si passa direttamente alla settimana successiva e giornale arriva con quattro cinque giorni in ritardo è inaccettabile per noi e per i nostri lettori poste ci fa un anno poco da fare se lo fa da molto tempo e grazie ai nostri abbonati che hanno la pazienza di seguirci io a proposito ricordo che tutti gli abbonati hanno il diritto anche a leggere l'edizione digitale dell'amico del popolo che proprio come questa del gazzettino che io sto leggendo adesso cioè vedete sul computer il giornale di carta lo vedete sul computer quindi se il giornale di carta dovesse essere in ritardo e se avete un po di dimestichezza col computer ricordatevi che basta che chiediate a segreteria chiocciola amico del popolo punto it la vostra password voi ne avete diritto perché siete abbonati e potete sfogliarvi in attesa che arrivi il giornale di carta potete sfogliarvelo sul sul computer o anche sul telefono dunque la mon quest'altra notizia sempre su questa pagina dice una negativa e una positiva anzi molto positiva la riabilitazione rinasce dopo 15 mesi torna a casa i pazienti saranno trasportati da feltre dove erano stati ricoverati in questi mesi e dopo 15 mesi dopo più di un anno non i ricoveri erano a federe verranno portati da una ventina di ambulanze il centro riabilitativo di la mon è pronto a tornare pienamente operativo oggi pomeriggio i pazienti attualmente ricoverati al santa maria del prato di feltre verranno trasferiti sull'alto piano ne partiranno circa una ventina che poi verranno ricoverati nelle camere dell'ospedale ristrutturato degenze che passeranno da 40 a 70 per arrivare da feltre alla mon verranno utilizzate molte auto lettighe tutto il personale del reparto sarà impegnato per il trasporto per permettere un trasferimento adeguato oggi la riabilitazione di la mon torna in vita dopo un emigrazione di 15 mesi che hanno permesso di trasformare radicalmente la clinica come ormai noto l'ospedale di la mon è stato oggetto di un importante intervento di ristrutturazione riorganizzazione e riqualificazione un investimento pensato da 7 milioni di euro molti sono dei fondi di confine ricordiamocelo non della regione ok che ha permesso una messa in sicurezza dell'edificio sia dal punto di vista antisismico che antincendio l'adeguamento impiantistico oltre ad un adeguamento degli spazi interni che hanno permesso di portare la struttura a 70 posti letto è stata inoltre realizzata una unità riabilitativa territoriale con sette posti letto sappiamo bene che alla mon arriva arrivano persone che hanno bisogno della riabilitazione da tutta la nostra provincia è diventato l'ospedale di riferimento anche per fuori provincia per questo tipo di attività che viene svolta benissimo non è un ospedale di quelli di una volta con tutte le sue funzioni è specializzato su questo e sono formule che possono essere importanti per mantenere in vita un presidio sanitario sul territorio la dove una volta c'era un vero ospedale ma gli ospedali come una volta diffusi sul territorio non sono più possibili non solo per i costi ma anche perché le esigenze le possibilità che oggi la medicina hanno bisogno di essere esercitate su un bacino di utenza ampio e sono collegate a macchinari a strutture che gli ospedali di periferia difficilmente possono possono garantire dobbiamo avere il coraggio di ragionare sulla situazione nuova che si è venuta a creare non difendere a tutti i costi a periodisticamente quelle di una volta che non possono tornare più vi faccio vedere la prima pagina del gazzettino di belluno notizie positive e notizie negative come questa secondo la camera di commercio nel 2023 abbiamo perso in provincia cioè l'anno scorso 267 aziende dunque come sempre un conto sono le aziende perse un conto quelle che aprono leggiamo il lancio di questa notizia che affirma dell'amica ivonne toscani giornalista da una vita del gazzettino di belluno ma giornalista da una vita anche per l'amico del popolo quindi per questo a lei un saluto particolare no la fotografia delle imprese bellunesi scrive ivonne segna da un anno all'altro un meno 267 incluse le oltre 170 ditte cancellate dal registro imprese camerale al termine di un importante attento procedimento di depennamenti d'ufficio che conclusosi nell'ultimo trimestre del 2023 ha creato una significativa discontinuità nelle consistenze della demografia d'impresa della provincia a modificare gli equilibri e in particolare il settore terziario anche al netto delle ditte individuali i tre comparti con maggiore perdita sono il commercio sia all'ingrosso che al dettaglio la ristorazione e il manufatturiero crescono invece le sedi di impresa e le filiali dipendenti per le attività finanziarie assicurative le attività professionali e per l'ospitalità turistica i dati sono stati elaborati e diffusi ieri dall'ufficio studio e statistica della camera di commercio di treviso belluno le ditte sono state cancellate spiega il presidente mario pozza per mancato compimento degli atti di gestione negli ultimi tre anni quindi insomma sono di fatto cessate secondo la camera di commercio vi leggo altri di altri titoli principali c'è la notizia dell'operazione sul sui gadget per san valentino e carnevaleschi che erano venduti in un negozio di sedico dove la guardia di finanza ha scoperto irregolarità che vuol dire situazioni potenzialmente pericolose portando al sequestro di merce per 15 mila euro praticamente 4 mila articoli sequestrati portati via dal negozio insomma ecco una cosa importante che ci dice però diverse cose ci dice di come comunque si continui in italia ad avere spazi in cui la gente crede di poter così operare in modo agile e impunito rispetto alle norme che alla fine sono scritte a vantaggio dei cittadini della sicurezza dei cittadini si tratta di prodotti che non hanno i requisiti di sicurezza e quindi che non hanno i marchi dovuti che sono corrispondono a una verifica sullo stato di sicurezza rispetto alla salute rispetto ai pericoli che si possono creare degli incidenti eppure insomma queste situazioni continuano ad esserci e viene da riflettere anche insomma su quanto avanti siamo andati in questi anni nella direzione delle delle normative per la sicurezza queste cose che a molti possono sembrare noiose ostacoli però in realtà in realtà vuol dire che siamo più attenti alla nostra salute titolone centrale il gazzettino spesso in pagina così non primo titolo è più importante camera di commercio le aziende perse però poi c'è un titolone di taglio si dice che ha un carattere molto grosso e quindi di fatto conquista l'attenzione subito bob la spinta di tutta la provincia berton confindustria industriali bellunesi a fianco dell'impresa pizzarotti che si è aggiudicata che è stata l'unica proposta e si è aggiudicata il bando favorevole anche la brignone vedremo che è anche sul sulla prima pagina del corriere delle altre che la mostro tra un attimo insomma adesso si vuole andare andare avanti il cai e le associazioni continuano però insistere contro virgolette impedirla con ogni mezzo legittimo a me ha sempre colpito perché queste posizioni del del cai sono più che altro le posizioni del cai veneto o addirittura nazionale mentre non ho colto in questi mesi una versione esplicita da parte delle sezioni bellunesi del cai questa cosa qui quando non so a me sembra che in una direzione o nell'altra così come quando sono state le proteste no quando il nostro territorio diventa terreno di scontro anche politico se si vuole di realtà che nulla c'entrano con il nostro territorio a me dispiace e anche un po insospettisce belluno con senso da tutte e due le parti dalla maggioranza e dell'opposizione dopo il via libera del sindaco che è stato un via libera fino a un certo punto ma insomma è stato un via libera all'idea di passare tutto il centro di belluno ai 30 loro obbligatori sia sì dell'opposizione ma chissà che sia un passo avanti verso una razionalizzazione delle pedonalizzazioni per fare un centro veramente vivibile dico io come vediamo dappertutto guardate a treviso l'area pedonale centrale quante grande guardate a padova stiamo parlando di zone immense che non hanno la possibilità di che non hanno la possibilità di entrare con le auto eppure i trevisani ci convivono eppure i padovani ci convivono e i negozi fioriscono cos'è che non siamo capaci di fare noi per cui sembra che se non arriviamo con la macchina fin sulla porta d'ingresso del negozio anno allora non ci vado abbiamo qualcosa che non va ma probabilmente la politica dovrebbe seriamente analizzare quello che succede altrove e vedere se anche qui siano replicabili situazioni virtuose cortina la coppa del mondo entra nel vivo si si da domani non cominciano le gare con le discese libere oggi sono sono in corso le prove e no gastronomia l'artigiano feltrino marco reato sul podio dei dei migliori gelatieri italiani e anche da qui gli facciamo i complimenti c'è il lancio in prima della notizia sul postino che va in pensione sparite le raccomandate ma qui è un taglio basso e se me la notizia sembrava carina negativa e carina però anche per così per il bene che la popolazione vuole a questa persona che andava in pensione e ve l'ho proposta all'inizio di questa rassegna vediamo invece che cosa c'è sul corriere delle alpi vi dicevo brignone ma anche goggia insomma adesso sono le atlete che vengono intervistate perché sono a cortina coppa del mondo di sci la campionessa si racconta la goggia coccola cortina l'olimpia è la mia pista sulle tofane l'azzurra ha messo in fila tre successi e un brutto incidente era successo vi ricordate che poteva costarle pechino il titolone però di apertura riguarda la scuola il mondo della scuola l'assessore l'assessora regionale si dice delusa dai licei bellunesi e perché perché non è stato fatto partire da nessuna parte il made in italy un modello veneto sono delusa che non sia partito alcun liceo made in italy in provincia di belluno dove come regione abbiamo investito molto in questi anni elena donazzan assessora veneta all'istruzione formazione lavoro e pari opportunità non nasconde l'amarezza per la mancata adesione al nuovo indirizzo ma anche per la tiepida accoglienza della sperimentazione per la formazione tecnica professionale 4 più 2 che in provincia ha visto l'adesione del solo istituto agraria altri titoli ungem rilancia sono necessari altri 300 milioni per la montagna cortina aziende in corsa per l'olimpico confindustria esulta per il bob il caso fleximan e le incoerenze del falso eroe degli autovelox è una specie di corsivo il racconto va beh insomma qui sono titoli titoli di carattere che vanno fuori dalla nostra provincia il corriere si è dato questa impostazione che a me non piace molto anzaia vogliamo tutte le materie vedete si parla dell'autonomia insomma diciamo che le notizie bellunesi in prima pagina sul corriere alla fine sono sono piuttosto poche no va bene allora io mi fermo qui vi auguro una una buona giornata vi raccomando di seguirti www amicodelpopolo.it e radio piave buon giovedì 25 gennaio da luigi gugliani ciao grazie a tutti